Tenere insieme servizio civile, protezione civile e io non rischio è il sogno di una vita. Oggi con questi ragazzi abbiamo parlato di una parola che tiene insieme tutto questo che è comunità. Questo è un progetto pilota, stiamo iniziando una sperimentazione per estendere la campagna di non rischio a tutti i giorni dell'anno. Come ANPAS partecipiamo come Comitato Regionale Abruzzo e Toscana con diverse associazioni in cui i volontari del servizio civile impareranno che cos'è la campagna di non rischio e cercheranno i modi migliori per poterla estendere e per poterla far diventare una campagna 365 giorni l'anno. Ecco, aver messo insieme tutto questo in un grande programma di servizio civile e quindi con i ragazzi protagonisti, con finalità di protezione civile intorno ad io non rischio è una bellissima esperienza che siamo certi produrrà grandi risultati. Farlo insieme, Dipartimento Protezione Civile, ANPAS, Fondazione Cima e con il concorso di tutti gli altri soggetti da INGV a Reduisa alle Regioni che costituiscono la grande famiglia di uno rischio è un po' un fiore all'occhiello di cui siamo molto orgogliosi.